Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale, visto anche il periodo, voglio presentare un tema leggero, diciamo, senza troppo impegno, proprio per salutare la primavera appena giunta, non da molto tempo. Allora, il titolo, il piccolo vocabolario di Linux, cosa intendo? Io intendo semplicemente che mi sono messo in testa e mi sono impegnato a trovare una lettera, scusate, un termine legato ad ogni lettera del nome Linux, vedete qui, L-I-N-U-X, e così, giusto per descrivere Linux in un modo un po' diverso, ecco perché il titolo del video, il piccolo vocabolario di Linux. Mi raccomando, è un video leggero, quindi un tema senza impegno. così, tanto per. L, quindi la prima lettera della parola Linux, ho deciso di legarlo a termine libertà, perché L come libertà di poter usufruire di Linux, perché milioni di utilizzatori consapevoli o meno stanno utilizzando e usano tutti i giorni Linux, quindi si è liberi di poter usufruire di Linux, così come anche di contribuirvi al progetto che continua a far sviluppare Linux. Ed ecco che quindi ho deciso che libertà era un buon termine da legare alla L, quindi usufruire e contribuire ad un progetto su scala mondiale, ecco come Linux. Infatti, come sappiamo, come dovremmo ormai sapere a questo punto, Linux è un progetto software, è un progetto di programmazione di codice software, open source, quindi del quale chiunque può liberamente approfittare e al quale chiunque può liberamente partecipare. Ecco, voilà, ecco perché ho scelto la parola, il termine libertà per la L. Passiamo alla I, quindi L, I, come intelligenza collettiva. In che senso? Nel senso che mi sembra evidente, almeno sempre secondo la mia opinione, ecco secondo il mio punto di vista, solo l'insieme degli sforzi intellettuali di centinaia di brillanti cervelli sparsi in tutto il mondo può aver portato al successo planetario di Linux, così come lo conosciamo oggi, quindi può aver portato il progetto a livello, alla portata attuale. Proprio perché Linux è un progetto collettivo e quindi è il risultato, il risultato finale, quindi ogni versione di kernel di Linux che noi possiamo installare o che abbiamo installato nelle nostre distribuzioni Linux, nei nostri sistemi operativi, queste versioni sono il frutto dell'insieme degli sforzi di centinaia veramente di sviluppatori brillanti sparsi in tutto il mondo. Quindi ecco perché ho deciso di associare la I a due termini, diciamo, che formano un concetto di intelligenza collettiva. Passiamo alla N. N come neutralità. Allora, in che senso? Quindi Linux è un progetto neutrale nel senso che permette a chiunque senza pregiudizi di partecipare in ugual misura, cosa intendo per chiunque, quindi non importano il vostro paese di provenienza, la vostra etnia, la vostra fede, il vostro sesso, niente, tenuto conto ovviamente delle vostre capacità tecniche perché bisogna pur dire che è vero che Linux è un progetto open source, ma se non si hanno una determinata base tecnica e delle conoscenze approfondite in programmazione su determinati linguaggi, in questo progetto ci potete far poco. Magari, perché no, potete contribuire alle traduzioni, ecco, questo è sempre un aspetto parallelo ai progetti di software in quanto tali che permette una partecipazione più semplice a chi se la sente, la traduzione intendo, perché noi possiamo usufruire di Ubuntu come di altre distribuzioni Linux nella nostra lingua, ma non è che questo magicamente dalla sera alla mattina si trasforma in italiano piuttosto che in arabo, piuttosto che in russo, piuttosto che in tedesco, francese. Anche qui dietro ci sta una comunità di professionisti e volontari che nel loro piccolo aiutano a tradurre tutto quanto noi vediamo sul nostro desktop, nella nostra lingua. Quindi fosse anche una semplice frase in mezzo a centinaia o decine di migliaia di frasi che compongono tutto un sistema operativo e i programmi e tutto quanto, però chiunque che ha un minimo di dimestichezza con la propria lingua può partecipare a tradurre il software che compone il kernel di Linux e i programmi che ci girano sopra. Quindi non dimentichiamo che non è solo l'aspetto prettamente tecnico e più complesso, se vogliamo, proprio dello sviluppo del software in quanto tale, ma c'è sempre anche questo aspetto parallelo della traduzione. Quindi ecco che con neutralità appunto ho voluto sottolineare il fatto che Linux, al progetto Linux, diciamo così, come entità progettuale, non importa nulla di come siate, da dove siate, a cosa crediate, ma importa che voi contribuiate, ecco, per farlo crescere. Quindi tenuto conto delle vostre capacità tecniche potete semplicemente aggregarvi al gruppo di progetto e far crescere questo progetto Linux appunto da ogni angolo del pianeta. E quindi neutralità inteso come equidistanza da qualsiasi fonte di contributo che arrivi da qualsiasi parte del mondo. Passiamo alla U, siamo quasi alla fine, ormai Linux fortuna che è un nome corto, Linux se no, hai voglia. La U come universale. Ecco, Linux è indubitabilmente la scelta preferita per il cuore dei sistemi operativi impiegati in tutte le attività umane, dallo spazio, quindi fuori e lontano dal nostro pianeta, alle miniere, quindi dentro nelle viscere del nostro pianeta, quindi ai due estremi, è dalle comunicazioni, alla medicina, alla robotica, alla domotica, dagli elettrodomestici, agli smartphone e aggiungete quello che volete voi, dappertutto state sicuri che in un modo o nell'altro, in una forma più o meno ampia, più o meno ristretta, Linux c'entra sempre ormai al giorno d'oggi. In questo mondo informatizzato e digitalizzato, Linux è come dire il buon vecchio prezzemolo, c'è dappertutto. Ecco. Ecco perché è associato alla U universale. L'ultima lettera, X, ovviamente in italiano era un po' difficile trovare qualcosa con la X, mi sono un po' spremuto così di fantasia e guarda caso ho trovato un termine fantasioso, ovvero Xanadu. Xanadu che cos'è? È un termine che probabilmente qualcuno di voi ha già sentito, è un termine fantasioso che può assumere diversi significati a dipendenza del contesto, può rappresentare luoghi reali o immaginari ed è stato usato soprattutto in letteratura ma anche in ambito musicale e cinematografico. Quindi è un termine, diciamo così, inventato che sta a indicare qualcosa di così di immaginario più che altro. Quindi è una parola in sé un po' strana, anche suona anche un po' strano, che porta con sé un certo alone onirico, laddove quindi in un ambito laddove nei sogni tutto è possibile, anche l'assolutamente impossibile è possibile nei sogni e quindi Xanadu porta con sé un significato o un concetto di un luogo, di un posto, di un metodo che è confinato solo dalla nostra fantasia, quindi praticamente senza confini. E Linux? Perché ho legato Xanadu a Linux? Perché un po', visto la sua omnipresenza e la sua pogliedricità, non so se si dice in italiano, Linux è un qualcosa, un progetto pogliedrico, molto malleabile, adattabile e quindi Linux ci avvicina un po' questo ideale che ci porta a questo termine Xanadu. Quindi, come ho detto prima, Linux è presente dappertutto, dagli elettrodomestici ai droni e ai robot, mi ripeto un po' rispetto alla lettera precedente, i satelliti, le stazioni spaziali internazionali, dappertutto, quindi di fatto vuol dire senza confini e senza limiti, appunto, come Linux fosse una Xanadu tecnologica. Ecco perché ho deciso di usare questo termine o fantatermine per la X di Linux. Ecco, questo era quanto praticamente. Volevo raccontarvi appunto come tema leggero così, tanto perché in primavera, insomma, cambio di stagione, si sta un po' di più all'aperto, quindi chi ha voglia di impegnarsi in un video più intenso, e quindi ecco qua, così. Praticamente volevo, come dire, fare lo spelling, come si dice in inglese, del nome Linux lettera per lettera e assegnarli un termine che per me è un significato particolare e che si combina bene con l'ideale di Linux. Ecco, poi magari voi nei commenti potete suggerirne altri, perché no? Giusto per non finire così brutalmente e per farvi capire perché ho tenuto per tutto il video questa pagina di questo sito, nello sfondo del video, techcuriosity.com, perché ho trovato per caso questo sito, non è che non mi era conosciuto fino a pochi giorni fa, l'ho trovato per caso e restando più o meno in tema di vocabolario di Linux, ecco che vi segnalo questo sito che vi lascio ovviamente nella descrizione del video, eccolo qua, il link, perché ve lo segnalo? Perché questo sito, a parte che è in inglese, ma pazienza, con i traduttori tipo Google Translator se la può cavare, anche se non si conosce l'inglese, comunque a parte questo, la pagina che vi si presenta quando cliccate, cliccherete su questo link, è una pagina dove vi spiegano che cos'è il sistema operativo Linux, un sistema operativo Linux, i vantaggi, eccetera, eccetera. E la cosa interessante però, relativa in un certo senso al vocabolario di Linux, è che in fondo, a questo articolo, che può essere comunque interessante legge, ma non era questo il motivo principale per cui vi presento questo sito, il motivo principale è che in fondo ho scoperto, proprio scorrendo la pagina, che la persona, penso, o le persone che gestiscono questo sito hanno avuto l'ottima idea di creare delle pagine in ordine per lettera dell'alfabeto, questa volta non solo di Linux, ma di tutto l'alfabeto, vedete qua, questi tag, queste etichette, Linux commands A, B, C, D, eccetera, eccetera, fino alla Z, cosa hanno fatto? Hanno creato delle pagine suddividendo in ordine alfabetico quindi tutti i comandi del kernel Linux, quindi se voi cliccate su A, per esempio, vedete raggruppati con una piccola descrizione concisa sulla destra di ogni comando, quindi per la lettera A tutti i comandi che ci sono nel kernel Linux disponibili, diciamo così, a terminale, tutti questi sono comandi del kernel Linux che voi potete usare aprendo una shell da terminale, vedete tutti quelli che hanno l'inizio del nome con la A, e poi si va avanti così, quindi B, C, D, eccetera, eccetera, non so, con la T, vado a caso, clicco sulla T e vedete i comandi che ci sono sotto la lettera T. Ecco, ho deciso di segnalarvelo un po' perché capite adesso che ha a che fare in un certo qual senso con il vocabolario di Linux in un certo modo, in un senso lato, e anche perché può far comodo a chi usa il terminale che non si ricorda magari come si chiama completamente un certo comando, però magari sa che iniziava, che ne so, con la lettera T, però non mi ricordo come si scriveva questo comando. Ecco che qui sono in ordine alfabetico, si può scorrere lettera per lettera, che non è tanto lungo l'elenco di ogni lettera, e si può trovare facilmente il comando con la sua descrizione a parte. Ovviamente resta sempre il manuale, il comando MAN per avere più dettagli sul singolo comando, però trovo che sia un ausilio utile ed efficace avere un sito di questo tipo che ha suddiviso alfabeticamente i comandi. Ecco, con questo ho veramente concluso questo video leggero leggero, spero che vi abbia incuriosito, magari anche stimolato a trovare voi stessi altri termini legati alle lettere del nome Linux, perché no? Se vi fa piacere. E con questo vi saluto, ciao ciao e alla prossima!